Signore e signori buonasera, questa è Minecraftita, io sono Surry. Oggi dobbiamo fare un po' di manutenzione straordinaria, quindi non so se continueremo con la costruzione della nostra taverna del chill nel villaggino. Guarda lì Jimbrot tutti preoccupati, non succede nulla, state tranquilli, ma che bello è il mio mondo, ma vogliamo parlarne? Wow, è proprio incredibile. Allora, ti lasciamo questo piccolo bundle di caos dell'inizio dell'episodio, perché sono qui per raccogliere un po' di gunpowder, come potete immaginare, perché ho bisogno di razzi, non solo perché li ho quasi finiti, ma anche perché ho bisogno di razzi per andare nel nether, andare sopra la bedrock e andare alla mia farm di Wither Skeleton, visto che anche la farm di legno lì nella Silicon Valley ha terminato il bombial e questo non va bene. E mentre faccio queste cose, in realtà voglio parlarvi di Minecraft Live. Ora, i più appassionati di voi avranno seguito sicuramente l'evento, io no, anche perché aspetto che esce il recap, è un po' tipo il keynote di Apple, chi è che guarda il keynote di Apple? Cioè, tutti lo guardiamo magari i primi 5 minuti, ma poi realisticamente sono lentissimi, ci metto 12 anni a fare tutto, è un disastro. Ma quanta gente c'è qui dentro? Un po' troppa per i miei gusti? Diciamolo che c'è un po' troppa gente qui. Comunque, stessa cosa, quindi aspetto che finisca e mi leggo tutte le informazioni. Tanto c'è già uno snapshot dove si può provare i bundle, che sono la cosa più bellina. Quindi voglio raccontare un attimino di quelle che sono le novità. Non sono tantissime e ho anche un commento da fare sul film di Minecraft, perché io ero relativamente gasato a riguardo, ma dopo aver visto il recap di i Lights di Minecraft Live, purtroppo penso di aver cambiato idea. Nel senso che sono gasato, sì, cioè che sono molto curioso, più che gasato, però l'alternativa sarebbe stata incredibile. Forse addirittura più costosa, no, più costosa impossibile, ci hanno messo di quei attori lì dentro che la metà bastava. Però va bene. Partiamo da quelli che sono stati i cambiamenti all'interno del gioco. La cosa che mi ha, diciamo, interessato di più, e non so se è una cosa positiva o negativa, lo capiremo strada facendo, è la questione, se non ho più carta, non ho usata evidentemente un po' tanta ultimamente, fortunatamente dovrei avere la mia farm qui. Diciamo, la cosa che mi ha interessato di più è la frequenza degli aggiornamenti. È comparso, come si chiama, non è Dinnerbone? Non me lo ricordo mica. Vabbè, comunque è comparso un bro, che è il bro, il capo sviluppatore, in teoria dovrebbe essere ora, e ha fatto un ragionamento. Il ragionamento che ha fatto è, usciranno più aggiornamenti durante l'anno e non più un solo grande aggiornamento in estate barra dopo l'estate. Mi ha avuto il singhiozzo, guarda un po' te. Riesco a volare, per favore? Grazie. Allora, questa è una cosa che in realtà è positiva, perché io sono un creatore di contenuti qui su YouTube, anche di Minecraft, quindi dovrei essere relativamente contento, direte voi, di una notizia del genere, e sono tentato di dirvi sì, sono di base contento, ma c'è un downside a questa informazione, io credo, cioè la questione delle mod. Ora, è vero, noi qui di mod non ne usiamo, ma io per avere le shaders velocemente, e non solo, avere anche, come dire, una reattività di gioco, utilizzo che sia l'Optifine, oppure, non mi ricordo questo come si chiama, Iris Fabric, insomma, sta roba così. Eh, se tu mi fai l'aggiornamento ogni tre mesi, o facciamo anche ogni tre, quattro, però, insomma, più frequentemente abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi perché le mod di solito non riescono a tenere il passo, e questa è una cosa, onestamente, non esattamente positiva, o meglio, quando l'ho sentita, non mi ha fatto emozionare, diciamo, come informazione. Mettiamola così. A differenza di un'altra cosa, ma ne parliamo tra pochissimo. Ora, ho già tre, tre stack, quattro stack, praticamente, vabbè, o meglio di niente. Ci ritieniamo da parte, in realtà avrei necessità, Beh, più che necessità avrei bisogno di un po' di carotine anche, ma per fare le carotine ho bisogno del bon meal. Sbaglio? Te lo dico io, non sbaglio. Ora, a meno che qui non ci siano già un po', no, mi sa che sono vuoti questi. Vuoti, vuoti, questo non è un dropper, dispenser, vabbè. Andiamo nel nether, andiamo nel nether. Forse mi conviene svuotarmi l'inventario. Oddio, madonna, mi sono scagato addosso, pensavo fossi un mob. Ora, non so perché, povero Franchino, non mi ha spaventato. Un po' mi ha spaventato. Perché stavo parlando di una delle altre modifiche che hanno fatto, e una di queste modifiche è l'aggiunta di un bioma. Ora, di che bioma si tratta? La descrizione, quello che hanno detto, è stato più o meno questo. Minecraft è un gioco di base molto tranquillo, in cui ti puoi divertire a fare bene o male il cacchio che vuoi, ed è la verità, ma, è qui che ci hanno fregato secondo me, spesso vi sarà capitato di spaventarvi, o di prendervi uno spavento, l'hanno descritto così, ed è la verità. Nel senso, diciamocelo, succede, soprattutto nel nether o con Franchino, come in questo momento. Ecco, questo nuovo bioma, a quanto pare, ha questa peculiarità, nel senso che strizza l'occhio a questo aspetto del gioco, cioè l'aspetto del gioco che ti fa cadere un po' addosso. Diciamocelo. È così. Esiste questo aspetto, non bisogna nasconderci. Di conseguenza, di che tipo di bioma si tratta? È tutto grigino. Si chiama Garden Qualcosa. Aspetta che c'era scritto. Si chiama Pale Garden, che vuol dire giardino pallido. In italiano questi nomi fanno sempre un po' strano, però si chiama giardino pallido, e la particolarità, o meglio, la particolarità che ci hanno... Dove sono le mie bussole? Ok. La particolarità che ci hanno comunicato ad oggi è che non c'è niente di particolare se non la presenza di questo mob nuovo. Un nuovo mob che si chiama il Creaking. Creaking vuol dire scricchiolare. Ed effettivamente, se andate a vedere la foto, ragazzi, è tipo... Cioè, non tipo... È tipo Groot. È Groot con tre occhi. Palese. Gli arriverà una querela per violazione dei diritti o qualcosa del genere. Secondo me il rischio c'è. È un mix tra Groot è quello che c'è nei... Oh, cazzo, mi avevo sbagliato la direzione. È quello che c'è... Gli elm in... Non si chiamano elm? Come si chiamano? Nel Signore degli Anelli, gli alberi che fanno cose, però piccolini. Comunque, simpatico, da capire cosa vuol dire avere un mob del genere, perché... Quando aggiungo i mob io ho sempre un problema in particolare. Non capisco mai a che, diciamo, altezza dello spettro lo inseriscono. Voglio dire, è un mob difficile o no? È un mob di cui devo avere paura? Io che sono praticamente tutto inederite? Oppure no? E questa è una cosa che lo scopriremo, insomma, solo una volta che uscirà lo snapshot e così via. Per il momento sappiamo che questa è l'aggiunta principale, questo pale garden dove è tutto grigio, secco, guardandolo la prima cosa che ho pensato è ma non potevano aggiungere qualcosa di bello? No, dico avrebbero potuto, avrebbero potuto aggiungere qualcosa di bello. Ora, non dico che per forza di cose deve essere così, però mi sarebbe piaciuto, ok? Non nascondiamoci dietro un dito. Mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto molto, anzi. E quindi va bene così. Questa è, diciamo, l'aggiunta principale. C'è un'altra cosa che hanno aggiunto che forse mi ha gasato di più di questo idioma che sono i bundle. Allora, in primis hanno detto che metteranno le hardcore mode anche in bedrock, cosa che a quanto pare prima non esisteva. Va bene, cioè noi in Java ce l'abbiamo già, io non sono un fan perché come sapete mi piace giocare tantissimo, certo, ma non sono bravo. Muoio. Muoio. Muoio spesso, troppo, e quindi l'hardcore mode non è un qualcosa che io personalmente apprezzo tantissimo rispetto per chi gioca in hardcore. Non è il mio. Ma oltre a questo, la vera gasata, la vera figata che mi ha gasato, diciamo le cose come stanno. Questa è una testina, testina di Wither Sky, lo mettiamo qua, ma adesso lo portiamo a casa. I bundle, infatti per quello ho fatto anche riferimento all'inizio puntata. Cosa sono i bundle? Sono degli zaini. Incrivibilmente abbiamo finalmente degli zaini, voi direte, vabbè, abbiamo già i shulker box, sì, ma lo shulker box per essere utilizzato deve essere piazzato. E non sempre è comodo piazzare uno shulker box oppure, come nel mio caso, spesso lo piazzi e poi te lo dimentichi. Anche questo succede, diciamoci la verità, è così. Quindi, qual è la particolarità? Che possiamo avere uno stack di roba all'interno di questo zainetto che non costa niente da fare, tra l'altro perché, ma non avevo io una crafting table qui da qualche parte. Mi sembrava di sì. Ma potremmo fare una cosa di questo tipo? Perché non ho una crafting table qui da qualche parte? Perché palesemente non posso aprire la ender chest dopo, però, ma, l'abbiamo bisogno. Forse potrei mettere magari una trapdoor qui. qui? No? Sto facendo delle, sto facendo delle merate improbabili, tanto qui sopra non ci dobbiamo mai riandare. Vabbè, piazziamo una crafting table e basta, che dici? Mi sembra un'ottima idea. Anche che devo, aspetta, magari non è che l'ho piazzata qui da qualche parte. Potrei mettere l'acqua sotto semplicemente, no? Ma sì, ma perché, perché rovinarci la vita con 8000 pensieri? Piazzamola qui e vaffanculo. Giusto? O rompo tutto? No, dai, secondo me non rompo tutto. Ora, magari smette di funzionare, però, speriamo di no. Allora, comunque, è uno zaino. Uno zaino ha tutti gli effetti, non come lo shulker box, che è sicuramente più comodo, però, non può essere utilizzato al pieno della sua efficienza, diciamolo così. Qual è la particolarità? Dentro c'entrano solamente uno stack di roba, però prendi tutti i blocchi, cioè non c'entra un singolo stack, ad esempio, di oak. Ci possono entrare due wither skeleton, 26 pezzi di coal, le spade, poter riempirlo di spade. Cioè, mi ha gasato tantissimo l'annuncio del bundle e finalmente, a parte che aveva senso che fosse una delle prime aggiunte del gioco, diciamoci la verità, da quando è nato Minecraft, ha molto senso. lo zaino. A parte che non è uno zaino, è tipo una sorta di borsetta, però, l'utilizzo è quello e mi ha gasato tantissimo. Non vedo l'ora di averlo in gioco, soprattutto perché hanno spiegato ora che fanno più aggiornamenti, quindi magari questo aggiornamento ce l'avremo già a gennaio o in autunno. Piuttosto che averlo nella prossima primavera, nella prossima estate. E questa cosa qui mi ha gasato non poco, signori. È stato l'annuncio che più mi ha colpito di questo Minecraft Live. Considerando anche che probabilmente ci saranno di nuovi di Minecraft Live, visto questo, diciamo, nuovo concetto della... io in realtà devo portarmi dietro anche tutto questo perché non è che lascio qui il carbone, mi serve. Possiamo buttare le spade però magari, che dici? Buttiamo le spade. E cos'altro? Basta, queste sono le aggiunte che sono state fatte. Magari qualche cambiamento, visto delle armature nuove per i cani, tipo con l'armadillo oppure colorati diversi. Non lo so, non mi sono informato oltre perché sono cose estetiche che non danno propriamente uno switch al gameplay, cosa che invece mi interessa di più. Bene, cos'altro? Un'altra nota che secondo me è dolente è che, come vi dicevo, io mi ero gasato non tanto ma abbastanza per il film di Minecraft. Cioè, mi piaceva l'idea di dire ah che bello un live action su Minecraft e ci sarà tutta una storia di qua di là. Poi vado a vedere gli highlights e vi invito a fare lo stesso. Magari non volete guardarvi la Minecraft Live intero ma andate a guardarvi Minecraft Live che è il riassunto praticamente e c'è una scena in cui parlano di uno studio di animazione che ha fatto questa scenetta di villager in mezzo alla foresta e ho pensato cazzo ma doveva essere questo il film di Minecraft? Doveva essere questo? Una sorta di Minecraft delle animazioni quelle che piacciono a tutti diciamoci la verità che hanno accompagnato Minecraft per tutta la sua storia soprattutto su YouTube quando facevano le canzoni a tema Minecraft con queste animazioni per l'appunto le canzoni di animazioni cosa ho detto mi sto prendendo nel discorso e subito dopo fanno vedere la scena di Jack Black con in mano la spada e dico cazzo no cioè piuttosto non dovevi mostrarmelo non dovevi illudermi così lasciami con il dubbio che Minecraft il film sarà bello e invece no mi mostri direttamente questa roba qui e ti devo dire la verità cazzo mi ha mi ha un po' destabilizzato perché mi aspettavo cioè non mi aspettavo niente però ora non mi aspetto niente lo stesso ma son già deluso è strano eh però è così son già deluso ed ancora non ho visto nulla poi magari sarà bellissimo e e ci sta che lo sia però son deluso e mi sembrava giusto dirlo ditemi cosa ne pensate anche voi è stato un po' così è stato un po' sì mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca questa cosa qua vabbè però questo è quanto per il resto son gasato per il creaker per Groot perché lo chiameremo tutti Groot diciamoci la verità anche se non ho capito se mi farà male oppure no e non ho capito che tipo di drop avrà insomma non ho indagato troppo ma va bene così gasato per i bundles e gasato perché finalmente ho una buona quantità di bone meal che anche questo era ora blazer ce lo portiamo a casa come carburante potremmo guarda piazza uno shulker box e ci mettiamo dentro magari ci mettiamo dentro tutto il carbone dai ok così facciamo un bel refill di ossa ok dai diciamo che ci siamo siamo pieni di roba che non ci serve abbiamo fatto anche un bel pick up di esperienza come se non ci fosse un domani anzi guarda ora ammazzo questi e mi aggiusto un po' l'accetta che dici mi sembra un'ottima idea ma non c'ho il manning qua sopra eh sì perché non è più lento del previsto guarda che quante teste mi sto portando dietro sono qua tipo da 15 minuti che sto sparlocchiando taglierò qualcosa sicuramente però già che siamo qui fammi fare un piccolo refill di esperienza a tutto no eh me lo merito di solito lo faccio alla farm di scheletri guarda che siamo pieni di merda vero palese dobbiamo fare un po' di spazio nell'inventario di nuovo e il rischio c'è forse dai buttiamole queste tanto non ci servono ecco vedi ora ho un bundle ora che so che esiste non vedo l'ora di averlo voi direte potete usare qualcosa con sweeping edge che tanto ce l'hai sì vabbè ma poco cambia però mi viene un dubbio ho un piccolo dubbino e il mio dubbino è per fare le croce d'oro ho bisogno dell'oro non ho oro questo potrebbe essere un piccolo leggerissimamente piccolo problema è vero che c'ho la farm e magari passo anche da lì già che ci sono dai ok ho tutto ben carico sono carico anch'io trasformiamo tutte queste ossa in bombial e tutto questo bombial in blocchi uno due tre quasi quattro bomblock direi che si va di lusso ok quattro stack di blocchi di bombial sono davvero tanti e quindi è arrivato il momento di tornarcene a casa posso liberarmi lo spazio ho 19 testereweeder qua ho il carbone che è anche qua dentro ho tre quattro cinque nove stack dieci quasi undici beh questi finiscono tutti nella fornace ovvio che sì allora come torno a casa netherbase è di qua di qua si vola dovrei incontrare il mio amichetto enderman tra poco che tanto è sempre sulla strada lui non non disponerà mai finché faccio questa strada con 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 i razzi impossibile che disponi giusto dove è il mio amichetto non c'è più finché non lo vedo non sono arrivato no ho parlato non c'è più eccolo il mio amichetto grande ah no aspetta l'oro ora per l'oro in realtà sale un po' sale un po' senza magari cadere e fare danni ho della delle snowball si vabbè ne basta una ammazziamone un po' ammazziamone un po' perché ne ho bisogno se no dico se spunassero dei maledettissimi non spunano ah eccoli ora si che prima no abbiamo un colpicino in realtà con lo snowball lui non ha bisogno neanche di essere qui giusto? no in teoria no abbiamo un colpicino aspettiamo che ce ne siano tanti ne raccolgo un po' di oro non ho bisogno di tantissimo però in realtà se ci penso ho bisogno di tantissimo oro cazzo dovrei andare a fare un po' di mining in realtà per prendere oro questa farm è figa ma neanche troppo diciamoci la verità cucciolo che viene qui ma mi vuoi far male? eh cazzo mi vuole far male dove fare altri livelli di questa farm mi sa di sì ho voglia di farlo beh potremmo in realtà scusa la golden carrot si fa con le nuggets no con i blocchi interi giusto? ah no con le golden nuggets ok beh meglio del previsto dai allora dov'è che spawnavano? qui tipo? o devo mettermi qua in fondo? forse devo mettermi qua in fondo per farli spawnare ah ecco no non lo so non lo so perché io credo che nella costruzione di questa farm a un certo punto io possa aver sbagliato perlomeno il blocco di afk dove devi stare per far spawnare i mob perché se ne arrivassero a profusione problemi non ce ne sarebbero il problema è che non arrivano a profusione e di conseguenza è un problema o sbaglio lo dico sto sbagliando probabilmente ho sbagliato durante la costruzione però va bene lo stesso vedo che spawna gente ma non ci vengono mica qui no non voglio le spade neanche la rotta in flash voglio l'oro vabbè dai ammazziamo l'oro e poi è per le carote ci ripensiamo non so che dire potremmo passare a delle bistecche bello questo bello sono una carota intera se penso alla quantità di golden nuggets che mi servono guarda è un disastro vabbè dai torniamo a casa che abbiamo già raccolto abbastanza cose per oggi i razzi e abbiamo tanti razzi potremmo averne di più in effetti ma mi lattano a questione di carta perché un po' di gunpowder ce l'avevo no scusa no avevo la carta non avevo la gunpowder al contrario no cazzo dovevo lasciare le bussole mi sono completamente dimenticato ma onestamente tutto questo carbone io sai che lo otterrei otterrei qui per il momento oh mi si era bugato il tastino mettiamo qui gli altri anche perché la farm c'è la farm mettiamo tutto sopra mettiamo tutto sopra dai siamo pieni di spazi usiamolo dai un po' di oro ce l'avevo in realtà ok poi test del wither dov'è che andavano qui abbiamo quasi uno stack di test del wither che insomma mica male ossa allora ossa io dividerei un pochino onestamente uno lo otteniamo qui per evenienze uno lo portiamo alla farm di alberi uno è tanto forse no dico non è non è tanto uno forse due forse anche tutti no uno me lo tengo per fare le carote ne piazzo due che in realtà non sono neanche tantissimi se ci pensi tutto sto disastro non c'ho abbastanza più un meal diciamo uno mettiamo qua dentro oh non è che è entrato ok facciamo due mettiamo sempre qua dentro eh non è tantissimo cioè ci basta per un bel po' ma non è tanto facciamo anche questi altri 12 e li piazziamo lì dentro ok questi altri 64 che sono comunque tanti eh sono tanti perché sono nove stack prendiamo delle carotine e andiamo a farmarle fortunatamente è relativamente semplice dovremmo riempirci di carote in maniera abbastanza semplice guardano tutti e cinque ne bastano quattro no a direi non ne bastano quattro però proveremo a farcene bastare quattro allora vediamo un po' ora qui lo spreco un due tre un due tre e dietro uno due tre non è tantissimo eh cioè lo spreco di di bombiale è elevato in teoria però dovevi ottenere nove stack di carote ah no vedete ne ho usato uno qui e uno qui ok magari non nove stack però insomma cose del genere vabbè dopo un po' io in teoria posso tenere premuto è bugato? ok stiamo andando si vola guarda come sale di lusso di lusso oddio oddio che era successo? si era bugato tutto eh ma lo fa eh a volte lo fa no già finito? no incredibile è già finito wow vediamo quante carote ho uno due tre quattro cinque sei sette otto stack un po' meno perché ne avevo già cinque con me vabbè otto stack da nove stack di bon meal beh no in realtà è un ottimo ratio dai è un ottimo ratio è quasi una carota per ogni bon meal ottimo ottimo allora facciamo così prendiamo uno stack intanto tanto non posso permettermi mai nella vita di fare uno stack di carotine d'oro dovrei prendere un po' di questi nuggets sicuramente e questi blocchi d'oro e trasformarli tutti ho bisogno di oro ragazzi incredibile la cosa che meno serve in tutto il gioco io ne ho bisogno ora allora no allora no 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 ho bisogno di nuggets scusami boom ok così ma non mi faccio neanche mezzo stack poco più di mezzo stack vabbè dai meglio di niente ma ho sicuramente bisogno di una marea di oro qua dovrei avere tutte carote d'oro va bene per il momento diciamo che ci che ci basta diciamo che ci basta ok allora piccolo momento dramma perché in realtà per continuare la costruzione ho bisogno di legno di spruce che qui abbiamo allora ho delle trapdoor ho delle fence non ho delle ecco già se avessi delle trapdoor di spruce saremo a cavallo invece non ce l'abbiamo quindi tocca andare a prenderle e quindi le andiamo a prendere ma certo che si ma certo che si tutto sto risalto l'abbiamo fatto per questo e invece no perché è notte ora possiamo anche posare un po' di questi voilà va bene signori allora io direi che a questo punto abbiamo analizzato un po' quelle che sono state le novità annunciate nel Minecraft Live abbiamo fatto un bel refill che serviva era un pezzo che avevamo bisogno di fare una cosa del genere e ora possiamo proseguire con la nostra super costruzione la taverna del chill in Minecraft Ita per questo video è tutto vi ringrazio per la visione ci vediamo prossimamente sempre qui su Zuri and Chill Minecraft Ita ciao a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti